Martinesi, che fai? Gestaccio dopo il di miglior portiere del mondiale. L'usail, Qatar, campione del mondo e protagonista di una Kermesi ridata indimenticabile. Emiliano Dibu Martinesi ha una caduta di stile a conclusione della finale vinta dalla sua Argentina. Ai rigori, sulla Francia. Il portiere della selezione è stato fondamentale anche nell'ultimo atto del torneo. Con una parata straordinaria su Colomuani alla fine del secondo tempo supplementare parando il rigore di Coman nella serie decisiva dagli 11 metri. Premiato con il Golden Globe e della FIFA come miglior portiere del mondiale. Martinesi, una volta preso il premio, un guanto d'argento, se lo è avvicinato ai genitali. A favore di fotografie e telecamere, con un fare beffardo e poco educato. Il gesto non è passato inosservato. L'estremo difensore dell'Argentina, in questo mondiale, si è fatto conoscere anche per le parole i gesti provocatori nei confronti degli avversari incaricati di battere i rigori. Virgola.